Allora, buongiorno e ben ritrovati, spero che abbiate passato delle buone vacanze confinate, nonostante tutto. Ci ritroviamo per proseguire la nostra visita nella Cappella Sistina e accompagnare Michelangelo verso la conclusione della sua vita biologica e della sua vita artistica in qualche modo. Dunque, siamo agli inizi degli anni 30 del 500. Michelangelo è a Firenze per concludere alcune commissioni che gli sono state richieste ancora da Papa Medici e soprattutto per la conclusione della facciata di San Lorenzo. Clemente VII, che probabilmente vuole in qualche modo legare come i suoi predecessori Giulio II, sotto cui era stata realizzata la decorazione a fresco della volta della Sistina, sempre da Michelangelo, e Leone X, che aveva invece dotato le pareti della Sistina dei splendidi arazzi su cartone di Raffaello. Dunque, Clemente VII, anche lui vuole lasciare la sua impronta in questo luogo così importante che, come vi ricordo, è proprio il luogo dove avvengono le lezioni dei papi, decide di commissionare a Michelangelo la decorazione della parete di fondo della cappella. Clemente VII ha vissuto nel 1527 lo shock del sacco di Roma. è stato, diciamo, exfiltrato, come si direbbe adesso, fatto fuggire dalla residenza papale verso Castel Sant'Angelo durante una notte di assalto dei Lanzichenecchi e ha dovuto passare velocemente abbassandosi per evitare i colpi dell'archibugi che sono ancora visibili sulle mura di questo stretto passaggio che collega i palazzi vaticani con Castel Sant'Angelo per rifugiarsi e quindi ha, diciamo, subito l'umiliazione anche di essere stato costretto a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo a causa, diciamo, della presa di Roma da parte delle milizie imperiali. Dunque, Clemente VII richiede un affresco il cui soggetto è forse legato a questo sentimento di, diciamo, di resa dei conti che doveva essere legato anche appunto questo avvenimento realmente traumatico che fu il sacco di Roma. Da parte di Michelangelo Michelangelo marca con questa realizzazione veramente un'opera che diventa ed è ancora il simbolo di questa crisi, questa messa in discussione del rinascimento di questo periodo così aureo, di grande equilibrio, di estrema raffinatezza e, diciamo, di equilibrio, di grande fiducia nelle potenzialità umane e, appunto, ha, diciamo, un valore molto forte sia da un punto di vista universale sia dal punto di vista personale. Quindi, diciamo, un'opera che rispecchia questa situazione di mancanza di certezze in questo mondo che è sempre più caotico, vi ricordo che appunto sono gli anni veramente della grande discussione su che cosa fare con la riforma, con la riforma protestante, quindi una necessità sentita da più parti della Chiesa Cattolica di procedere in seno stesso della Chiesa ad una riforma che possa, diciamo, presentare la Chiesa in una maniera nuova. Allora, Michelangelo arriva nel 1534 a Roma. Vi ricordo che la Cappella Sistina è stata interamente decorata sia nei muri sia, appunto, nella volta, sui muri, ma adesso poi lo vedremo con più dettaglio, da queste equip tardo-quattrocentesche che hanno dipinto, anzi adesso ve lo vediamo, forse meglio, nella volta, dunque la decorazione era completamente conclusa e nel muro di fondo, che è il muro, diciamo, dietro l'altare, vi era già una decorazione. Dunque, i primi progetti di Michelangelo, scusate che qua vi avevo messo i protagonisti di questa vicenda, dunque abbiamo visto Clemente VII, Clemente VII ed è interessante sottolinearlo, è il figlio di Giuliano De Medici, quindi il nipote di Lorenzo il Magnifico. Giuliano era il fratello di Lorenzo che era stato ucciso durante la congiura dei pazzi e qua ritorneremo un attimo su questo, diciamo, dato biografico. Quindi Clemente VII, dunque, il committente, e Paolo III, il papa sotto cui l'opera verrà svelata al pubblico. Come vi dicevo, nel 1534 Michelangelo è a Roma e comincia a disegnare i primi bozzetti, i primi disegni preparatori per questa enorme composizione. Questi primi progetti non prevedono la distruzione dunque della decorazione che vi ho mostrato che era preesistente alla realizzazione dell'affresco del giudizio universale. E questi progetti, in effetti, come vedete, mantengono, qua lo vedete bene in basso, lo spazio per la pala d'altare che era stata realizzata dal Perugino. Eccola, che conosciamo tramite un disegno della bottega del Perugino e vediamo come la pala d'altare che era stata dipinta da fresco sulla porzione inferiore della parete rappresentava l'assunzione della Vergine in presenza di Sisto IV. Vi ricordo che Sisto IV è il papa che appunto fece realizzare la prima decorazione a fresco delle pareti della cappella che quindi datano alla fine del Quattrocento e dà il nome appunto alla cappella Sistina. Dunque Michelangelo non aveva preteso assolutamente la distruzione almeno della pala d'altare che è il punto più focale della intera decorazione della cappella nel momento in cui la cappella era consacrata, era dedicata alla Vergine Assunta, quindi era proprio veramente l'opera, questa pala d'altare ad affresco che rappresentava proprio il soggetto stesso della dedicazione della cappella. Questi primi progetti quindi mantengono la sua posizione. In realtà Clemente VII fa distruggere abbastanza velocemente tutta la decorazione quattrocentesca della parete anche perché appunto questa pala d'altare rappresentava Sisto IV. Sisto IV era niente di meno che l'origine e soprattutto il sostenitore della congiura dei pazzi che aveva portato alla morte di suo padre Giuliano. Quindi diciamo che in una specie di regolamento dei conti familiari il papa fa togliere e distruggere la parte della cappella che testimoniava appunto la committenza del suo predecessore. Quindi la parete è diciamo in parte già cancellata, Michelangelo può dunque, vedete qua, la parte diciamo dalla pala d'altare e la parte bassa sono già state liberate su ordine papale e questa è una ricostruzione di quella che doveva essere la situazione della cappella nel momento in cui appunto Michelangelo cominciava a decidere che cosa poter fare su questa parete, ma Clemente VII nel 1534 a settembre muore. Michelangelo doveva essere anche forse abbastanza contento di questo, diciamo, di questo pausa perché in effetti voleva concludere i suoi lavori fiorentini, ma nel 1535 Paolo III Farnese gli conferma l'incarico nonostante Michelangelo temporeggi con ogni scusa. A questi punti, su ordine papale che in effetti l'anno dopo emette persino un moto proprio del Papa per riservare Michelangelo al giudizio e quindi sollevarlo dalla responsabilità di tutti gli altri impegni che aveva preso, bisogna insomma che Michelangelo metta mano a questo affresco. Innanzitutto bisogna distruggere anche la parte superiore della decorazione della parete, quindi bisogna distruggere, e qua ritorniamo al nostro schema, nella nostra ricostruzione i quattro papi che Michelangelo stesso aveva decorato accanto ai finestroni e alle due lonette sempre di Michelangelo che appunto dovevano venire distrutte. In più bisognava tamponare, quindi chiudere, le due finestre in alto per rendere appunto la superficie dell'intera, per rendere disponibile l'intera superficie della parete. Allora, bisogna in più realizzare quello che si definisce una scarpa di mattoni inclinata verso l'interno in modo che la parete sia diciamo più sporgente nella parte superiore rispetto alla parte inferiore di circa una quarantina di centimetri in modo da creare una specie di pendenza che evitasse il depositarsi della polvere e che quindi rendesse la parete più appunto più disponibile anche alla vita futura degli affreschi. Michelangelo come, ecco qui è una visione di intero del giudizio oggi quindi vedete sostituisce appunto la palla d'altare del Perugino e va a sostituire completamente la decorazione fino a questo livello quattrocentesca diciamo fino a qua c'erano le due scene della vita di Cristo e della vita di Mosè dipinte da Perugino qua c'era la palla d'altare con l'assunta qui ci sarebbero stati i quattro papi intorno alle due finestre e qua appunto le lunette qua vi faccio rivedere appunto la situazione iniziale Michelangelo inizia chiedendo un parere a Sebastiano Dal Piombo che era il suo amico e in qualche modo collaboratore su come procedere per l'affresco vi ricordo che se Michelangelo ha realizzato l'intera volta della Sistina da solo e in pochi anni era molto più giovane qua ci ritroviamo davanti a un Michelangelo che ha circa 60 anni e quindi Sebastiano Dal Piombo gli suggerisce e comincia tra l'altro anche in diciamo d'accordo con il Papa a preparare un muro che potesse ricevere una decorazione ad affresco ma con una tecnica a olio che era decisamente molto meno faticosa e molto meno diciamo complicata rispetto a quella dell'affresco con una preparazione fresca in realtà scoppia una lite tra Michelangelo e Sebastiano Michelangelo più o meno lo mette alla porta con il suo solito carattere un po' diciamo diretto e poco paziente e decide che nessun'altra tecnica avrebbe potuto convenire alla realizzazione di un affresco di tal genere soprattutto di tal soggetto la potenza dell'affresco non era sostituibile con una tecnica appunto a olio nel 1536 hanno inizio i lavori e come vedete Michelangelo sceglie una composizione che non ha cornice come vedete rispetto anche alla volta della Sistina che era costruita su una falsa distribuzione architettonica il giudizio è completamente libero di occupare completamente lo spazio con delle composizioni estremamente dinamiche Michelangelo lavora come il suo solito da solo salve qualche aiuto per la stesula dell'arriccio e la realizzazione dello sfondo allora l'arriccio è la parte dell'affresco che deve essere realizzata appunto la preparazione del muro dell'affresco come voi sapete l'affresco è una tecnica che si basa sul fatto che i pigmenti utilizzati per la pittura sono stesi su una preparazione di calce che è ancora fresca che con la reazione chimica dell'esposizione all'aria va calcificandosi e quindi seccando e trattenendo i pigmenti che abbiamo disposto ancora sulla preparazione fresca con il procedimento chimico alla reazione dell'aria li imprigiona diciamo in questa preparazione di calce fresca e li rende appunto pronti e quindi secchi nel 1540 Michelangelo cade dai ponteggi che anche in questo caso aveva dovuto far costruire per raggiungere l'altezza della cappella e si fracassa diciamo in malo modo una gamba tanto che deve prendere una pausa di un mese proprio per rimettersi da questo incidente l'affresco conta 450 giornate in fasce orizzontali che seguivano la forma dei ponteggi che vengono via via abbassate allora non so se avete già parlato del concetto di giornata la giornata nella realizzazione dell'affresco designa la porzione di muro che grazie anche alla stesura della preparazione di calce fresca il pittore riesce a realizzare durante un giorno di lavoro quindi molto spesso se voi guardate con attenzione e sicuramente lo vedremo in qualche dettaglio anche in porzioni con lo stesso colore si vedono come delle specie di segni che mostrano la divisione appunto tra un giorno e l'altro quindi la preparazione di calce fresca veniva stesa sul muro e durante appunto l'intera giornata di lavoro il pittore poteva, il frescante poteva appunto disegnare e colorare le sue figure e poi il giorno dopo bisognava riprendere per continuare la decorazione con un'altra preparazione fresca e quindi procedere con una seconda giornata dunque nel 1541 il giudizio universale viene scoperto alla vigilia di Omissanti come avvenne nel 1512 per la volta quindi nello stesso giorno e anche qui insomma pochissimi anni diciamo 5 anni di lavoro per realizzare un affresco che ricopre 180 metri quadri di superficie e conta più di 400 figure allora parliamo un po' dell'iconografia il giudizio universale è tratto diciamo dal punto di vista delle fonti testuali dalla descrizione che ne fa Matteo nel Vangelo 2531-46 appunto della fine dei giorni e del giudizio universale in realtà l'iconografia è un'iconografia molto antica che conosciamo già dai tempi diciamo tardo antichi diciamo paleocristiani e bizantini come ad esempio possiamo vedere qua nella controfacciata della basilica minore di Santa Maria Assunta a Torcello una delle isolette intorno a Venezia realizzata nel questo giudizio universale realizzato nel VII secolo e poi completato nel XII appunto in controfacciata come potete vedere qua la disposizione è estremamente ordinata quindi abbiamo il Cristo giudice in mezzo e poi la parte diciamo del paradiso dei buoni come possiamo definirli alla destra del Cristo quindi alla nostra sinistra e diciamo l'inferno e le punizioni dei peccatori nella parte sinistra del Cristo e quindi alla nostra destra quindi una disposizione estremamente rigorosa e ben definita stessa cosa nel giudizio universale di Giotto nella cappella degli Scrovegni qua siamo XIV secolo quindi inizio del del 300 e come vedete anche qua stessa divisione le sfere angeliche i santi e poi questa suddivisione tra destra e sinistra evidentemente nella parte diciamo della mano destra della parte destra del Cristo ci sono il paradiso con i beati e nella parte sinistra l'inferno e qui vedete come Scrovegni quindi chi è alla base della realizzazione della cappella si mette diciamo un po' speranzoso in centro ma diciamo spostato verso la destra quindi la parte diciamo buona del giudizio sicuramente Michelangelo doveva essere a conoscenza della realizzazione più interessante forse di questa iconografia della diciamo della generazione precedente a quella del giudizio che è quella della decorazione realizzata tra la metà del 400 e gli inizi del 500 da due diciamo due equip diverse quella rappresentata da Beata Angelico e Bennazzo Gozzoli in un primo tempo e cantiere poi terminato da Luca Signorelli delle storie degli ultimi giorni nella cappella di San Brizio della cattedrale di Orvieto questa è una visione di insieme ma se vediamo ad esempio nei dettagli vediamo il Cristo giudice con questo gesto su cui appunto ritorneremo la divisione tra i profeti e le Sibille gli apostoli e poi anche anche questo gesto scusate vi faccio un po' qualche salto anche questo gesto diciamo del Cristo che solleva la mano destra è ripreso sempre in questi anni da Melozzo da Forlì nel Cristo benedicente che era un affresco proveniente dall'abside della Basilica dei Santi Apostoli di Roma quindi un altro luogo altamente significativo della cristianità romana che era poi stato staccato e trasferito nel palazzo del Quirinale che era allora un palazzo apostolico quindi delle iconografie legate a questo gesto del Cristo benedicente ma anche appunto che attiva con un suo gesto il giudizio e per ritornare alla cappella di San Brizio quindi della cattedrale di Orvieto tutta la decorazione riferita ai giorni della resurrezione appunto del giudizio conclusa con gli affreschi di Luca Signorelli quindi qui abbiamo la resurrezione della carne come vedete gli angeli che suonano le trombe e i beati che devono riprendere forma umana dopo il lungo giacere sottoterra e quindi vedete anche qui la fuoriuscita degli scheletri che non hanno ancora ritrovato la loro situazione di corpi umani e questi corpi invece che si stanno sforzando di uscire dal terreno e guardano appunto questo sollevarsi del questo gioco di angeli di queste anime che sono sollevate verso l'alto la salita al paradiso e la chiamata all'inferno anche qua con questo movimento la sinistra che diciamo richiama con la musica angelica le anime da uscire appunto dalla terra per essere trasportate in cielo e qui invece il movimento inverso gli angeli che costringono i peccatori a scendere verso l'inferno qui la rappresentazione dei dannati all'inferno quindi il tumulto angelico e diabolico che assiste alla punizione dei dannati che vengono appunto trasportati con estrema violenza all'inferno e quindi vediamo come queste iconografie dovevano appunto marcare il bagaglio visivo di Michelangelo nella realizzazione della sua composizione ovviamente Michelangelo conosce queste realizzazioni ma sceglie completamente una via diversa innanzitutto dal punto di vista della realizzazione è interessante notare che e qua ve lo faccio vedere appunto sulla nostra carta virtuale il giudizio universale non è in controfacciata se noi andiamo a vedere adesso vediamo se riesco ecco in controfacciata della cappella c'è tutt'altra decorazione quindi se noi immaginiamo che la cappella assistina è una specie di piccola chiesa il giudizio universale sarebbe dovuto essere posto appunto in controfacciata dell'entrata in realtà il giudizio universale si trova anche appunto per una questione diversa nel senso di collocazione già di tutta una serie di decorazione preesistente sulla parete dell'altare in realtà Michelangelo decide appunto di realizzare una composizione estremamente libera dove non c'è una suddivisione chiara tra sinistra e destra ma in realtà è tutto dipendente dal gesto di Cristo che sembra placare da un certo punto di vista l'agitazione che gli sta intorno e nello stesso tempo dà l'avvio a un ampio e lento moto rotatorio vedete come tutta la composizione può essere ridotta a una specie di doppio cerchio in cui sono coinvolte tutte le figure a parte gli angeli nelle due lunette come vi dicevo è un enorme affresco che rappresenta più di 180 metri quadrati di composizione con più di 400 figure decorate che variano dai due metri e mezzo di quelle nelle zone superiori fino a un metro e mezzo di quelle inferiori quindi praticamente sono figure a grandezza quasi naturale quelle in basso e a grandezza quasi gigantesca quelle in alto la figura è quella di una specie di enorme ellissi con un movimento rotatorio che va dal basso verso l'alto nella parte nostra sinistra e dell'alto verso il basso nella parte destra ecco qua lo vedete meglio appunto vedete come c'è questa specie poi lo vedremo meglio di questo moto rotatorio che è messo in moto appunto proprio dal gesto di questo gesto di questo Cristo giudice ecco qua questo l'avevo trovato in francese quindi vabbè ve lo propongo la suddivisione di base così vi do uno schema di base è il mondo celeste in alto con Cristo giudice accanto alla Vergine poi avremo qualche scusate qualche dettaglio da vedere più in particolare e poi gli eletti che montano verso il cielo e i dannati che invece sono gettati in inferno e al centro gli angeli che annunciano la fine dei tempi quindi cominciamo con l'analisi dell'affresco in sé l'analisi comincia con le due lunette in alto dove alla sinistra e alla destra sono presenti degli angeli che trasportano i simboli della passione sono degli angeli apteri con scorci arditissimi apteri vuol dire senza ali che appunto sostengono i simboli del sacrificio di Cristo sono scorci che riprendono evidentemente i personaggi della volta ma anche l'impeto che Michelangelo aveva rappresentato ad esempio nei disegni preparatori della battaglia di Cascina l'unico affresco che prima della volta della Sistina Michelangelo avrebbe dovuto realizzare e quindi l'unica esperienza prima della volta nella pittura da fresco che avrebbe dovuto realizzare l'avevamo già accennato su una delle pareti del Salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio questi angeli in realtà hanno delle espressioni che come quelli dei peati che vedremo sotto dimostrano una partecipazione all'ansia generale che appunto caratterizza tutte le figure attorno al Cristo dunque qui vediamo la parte a sinistra con gli angeli che trasportano la croce e la corona di spine qua alcuni sembrano come cercare di riacchiappare qualcosa che sta accadendo che è probabilmente le spine della corona o i chiodi della crocifissione o ancora pare potrebbe essere un'interpretazione i dadi con cui i soldati si giocarono la veste di Cristo e quindi vedete come gli scorci sono particolarmente violenti come questa esibizione dei corpi è particolarmente insomma complicata con delle pose estremamente complicate come ad esempio questo angelo che sostiene la croce facendo una specie di capriola ecco qua vedete i dettagli di questo gruppo centrale sempre un po' queste figure un po' complesse figure diciamo composte da più da più anatomie e questa è la parte a destra mi dispiace che la qualità non è bellissima ma che appunto con questo gruppo di angeli che trasporta la colonna della passione qua forse c'è un altro dettaglio di questo gruppo che sostiene la colonna veniamo poi al Cristo giudice Cristo Gesù è rappresentato con accanto la vergine in un nimbo al centro della folla di apostoli profeti patriarchi sibille eroine dell'antico testamento martiri vergini e santi che costituiscono questo primo circolo intorno a lui che vedremo subito dopo Cristo è rappresentato subito sotto il peduncolo di una appunto del sostegno della volta della Sistina su cui è rappresentato Giona Giona in realtà è un personaggio molto significativo adesso forse ve lo faccio vedere di nuovo nella nostra ecco se noi andiamo a vedere meglio dunque ci avvicini scusate ecco ci avviciniamo alla rappresentazione ecco se voi vedete Giona è rappresentato qua e il Cristo giudice qua Giona funge da raccordo tra la volta della Sistina e l'affresco del giudizio ed è un raccordo anche concettuale perché Giona è il profeta che rimase tre giorni nel ventre della balena prima di essere diciamo rivomitato fuori e quindi rappresenta la personificazione l'allegoria diciamo un personaggio di diciamo di legame tra l'antico testamento quindi tutta la decorazione della volta e il nuovo testamento ovvero la presenza di Cristo e quindi di Cristo giudice alla fine dei tempi quindi alla fine del nuovo testamento come appunto Giona era rimasto e qua forse lo vedete ecco lo vedete meglio all'interno del ventre della balena Giona era presentato col suo pescione accanto così Cristo rimase tre giorni agli inferi prima appunto di ritornare e come abbiamo appunto appena visto a Pasqua di resuscitare Cristo appunto quindi come Giona è una prefigurazione della resurrezione di Gesù sempre secondo Matteo Cristo e soprattutto il Cristo giudice in questo momento rappresenta la fine dei tempi del Nuovo Testamento e con questo gesto particolare da una parte ha la mano alzata come a chiamare i beati verso il cielo dall'altra ha la mano sinistra abbassata come quasi a voler schiacciare i peccatori verso l'inferno in realtà questa posizione è anche uno stratagemma per mostrare evidentemente le ferite della passione quindi le stigmate diciamo i buchi provocati dai chiodi nelle mani e la ferita nel costato quindi è chiaramente un Cristo che è già risorto e che adesso chiama la fine dei tempi ovviamente questa è una figura in cui Michelangelo mostra tutta la sua volontà di gareggiare con i modelli antichi come gli antichi rappresentazioni di Giove o di Apollo quindi Giove saettante o Apollo in cielo è un esempio veramente molto chiaro di nudo eroico un nudo in berbe quindi un Cristo particolarmente giovane che ha richiesto a Michelangelo un Cristo nudo tra l'altro adesso poi parleremo successivamente delle diciamo delle censure alle nudità del giudizio che ha richiesto a Michelangelo molto molto studi e molta attenzione perché è il risultato di dieci giornate quindi ci ha messo dieci giorni per realizzare la sola figura di Cristo e se si va bene a vedere ci sono parecchi pentimenti se invece passiamo all'analisi della figura di Maria Maria ha un atteggiamento particolarmente rassegnato e non dimostra particolari sentimenti quindi guarda un po' quasi spaventata da quello che sta succedendo sotto di lei e non dimostra una particolare pietà come ha un po' nel suo personaggio verso le anime soprattutto le anime peccatrici perché ormai è la fine dei tempi e quindi non c'è più modo di essere di avere sentimenti umani ma bisogna solamente aspettare la decisione del figlio dal punto di vista formale vedete come controbilancia lo sguardo verso sinistra del Cristo guardando lei verso la sua destra passiamo in seguito all'analisi del primo anello del primo anello nel senso del primo raggruppamento che si trova intorno al Cristo diciamo di questa parte qua il primo diciamo diciamo la prima posizione intorno al Cristo è in genere riservata agli apostoli ma Michelangelo sintetizza anche questa figura iconografia tipica bizantina cioè la desis ovvero la presenza intorno al Cristo giudice o comunque al Cristo in generale della Vergine da una parte e di San Giovanni che sono intercessori con diciamo il mondo nella sola Vergine e quindi dispone tutta una serie di Santi intorno al Cristo in maniera appunto come vi dicevo quasi circolare è un tourbillon di gesti di sguardi di espressioni sospesi appunto tutti nell'attesa quindi vedete come tutti guardano il Cristo ad aspettare quello che succederà la decisione e il movimento appunto messo che prenderà tutto l'universo da questo gesto c'è un fortissimo chiaroscuro tra l'altro tra queste figure in primo piano e le figure del secondo piano quasi proprio come se ci fosse una luce che emana dal Cristo che quindi coglie il primo piano e mette in ombra invece lo sfondo del secondo piano in posizione dominante troverete San Lorenzo e San Bartolomeo perché la cappella oltre che alla Vergine è dedicata anche a loro quindi San Lorenzo alla destra di Cristo qui lo vedete con la sua graticola e San Bartolomeo con un coltello e qui vedrete adesso un altro oggetto che vi mostro quindi San Lorenzo con la graticola San Bartolomeo con una pelle scorticata il supplizio di San Bartolomeo è stato proprio quello di essere scorticato quindi di avere la sua pelle completamente rimossa dallo scheletro e quindi lui regge la pelle scorticata in realtà qui vedete un'allusione nel San Bartolomeo al ritratto cioè il San Bartolomeo è un ritratto di Pietro Aretino che qua invece vedete in un ritratto di Tiziano perché l'Aretino che era un uomo di lettere particolarmente influente nella diciamo nella valutazione artistica e un personaggio particolarmente violento nelle sue critiche aveva duramente criticato Michelangelo per aver realizzato non solamente quello che sarà il giudizio una volta che lo verrà ma già nella volta dei personaggi poco consoni alla diciamo alla presenza nella cappella papale e quindi questo concetto di critica e di stroncatura come diremo oggi è invece interpretato da Michelangelo come scorticatura e quindi se Aretino è il ritratto se San Bartolomeo è il ritratto dell'Aretino quindi vedete che in effetti la somiglianza è abbastanza palese la pelle scorticata che Bartolomeo tiene in mano è il ritratto dello stesso Michelangelo quindi vedete un gioco come dicevo nelle opere d'arte del rinascimento ci sono come abbiamo già visto parecchi regolamenti di conti non solamente nella presenza di ritratti ma come abbiamo visto anche appunto di eliminazioni anche legate a storie personali dopodiché dopo di che voi troverete sempre in questo primo cerchio Sant'Andrea e San Giovanni Battista allora qua San Giovanni Battista lo vedete riprendiamo il cerchio allora Sant'Andrea è questo personaggio qua questo nudo possente con la croce in mano che è come vedete la croce di Sant'Andrea che è quella che invece di avere i bracci perpendicolari li ha diciamo trasversali e il personaggio qui accanto a Sant'Andrea diciamo il personaggio che gli fa un po' da contraltare cioè lui è di schiena lui invece è visto appunto di davanti con questa pelle di cammello che è chiaramente l'indicazione della sua permanenza nel deserto dall'altra parte avete San Pietro che sta rendendo le chiavi del paradiso che sono ormai inutili dal momento che appunto è la fine dei tempi e che non si deve più gestire appunto questa apertura e chiusura del paradiso e quindi i santi altri santi più importanti intorno al Cristo se poi pensiamo al secondo anello troviamo martiri e beati suddivisi in maniera abbastanza generale con donne alla nostra sinistra e gli uomini alla nostra destra a sinistra si può vedere appunto un moto delle figure un moto ascensionale che richiama quello dei beati che vedremo più in basso ci sono dei volti molto caratterizzati mentre i gesti e le attitudini mostrano una maggiore eccitazione rispetto alla cerchia intorno al Cristo quindi se diciamo la mancanza di moto è la possiamo dire la caratteristica di ciò che è più vicino al Cristo quindi di ciò che è più solido man mano che diciamo ci si allontana dal cerchio più stretto del Cristo si ha sempre più movimento e eccitazione quindi a sinistra come vi dicevo dei personaggi femminili o in maggior parte femminili qua vi metto qualche esempio soprattutto dei volti vedete le differenze nelle espressioni e nella parte destra una maggioranza di personaggi maschili il personaggio con la croce che occupa una gran parte della parte destra del secondo anello è probabilmente o il Cireneo che aiutò Gesù nel trasporto della croce o forse probabilmente il buon ladrone poi potete chiaramente distinguere un San Sebastiano con le sue frecce quasi un atteggiamento d'arcere San Biagio con dei pettini e Santa Caterina con la sua ruota del martirio ma adesso vi mostro gli esempi allora più dettagli qui vedete San Sebastiano quasi un atteggiamento anche lui stesso di arciere con le frecce del suo martirio in mano qua vedete appunto questo personaggio buon ladrone o Cireneo che trasporta la croce e qui vedete San Biagio con i pettini e anche loro strumenti del martirio e Santa Caterina con la ruota dentata spezzata originalmente questi due personaggi erano entrambi nudi e il San Biagio guardava diciamo aveva il volto diretto verso Santa Caterina questa posizione fu giudicata una posizione molto diciamo poco adatta al luogo e soprattutto quasi diciamo che potesse essere interpretata come insinuasse un atto poco onesto nella disposizione dei due corpi che chiaramente dovete immaginare nudi ci ritorneremo ma questi furono le gli unichi due personaggi che vennero scalpellati quindi la superficie dell'affresco venne scalpellata da Daniele da Volterra nel momento in cui gli si chiese di intervenire per diciamo censurare l'affresco ma continuiamo con la nostra analisi adesso qui vedete ancora un dettaglio della parte destra con questo bellissimo dettaglio dei due santi che si abbracciano che si baciano e diciamo scendiamo ancora qui è rappresentata la fine dei tempi al centro gli angeli annunciano con le trombe la fine dei tempi quindi undici angeli apteri sempre senza ali che risvegliano i morti e presentano i libri che possono essere sia un simbolo delle sacre scritture o una sorta di archivio di supporto in cui si mostra la registrazione della vita passata di ogni umano e poi come vi dicevo la resurrezione dei corpi a sinistra e con gli eletti che salgono e l'inferno e diciamo lo scaraventare dei peccatori a destra ma andiamo per ordine dunque l'annuncio della fine dei tempi come vi dicevo con questi angeli colti nello sforzo appunto proprio di soffiare l'aria nelle trombe questo vedete ribalta quasi gli occhi nello sforzo e questi angeli che invece presentano un po' forse presentano i conti o forse mostrano le sacre scritture in cui appunto era annunciata la fine dei tempi e vedete come ci si staglia sotto questo porzione di blu ultramarino che tra l'altro è interessante notare appare molto poco nella volta della Sistina dove Michelangelo che aveva appunto proposto lui una decorazione molto più complicata rispetto a quella che era stata richiesta da Giulio II quindi era stato lui a procurarsi i materiali in questo caso Papa Farnese mette a disposizione di Michelangelo la possibilità cioè mette a disposizione di Michelangelo un pigmento che era quello del blu lapisazzulo che veniva dall'Iran che era estremamente costoso e quindi possiamo vedere che a differenza della volta dove Michelangelo doveva diciamo avanzare il budget per l'acquisto dei materiali qua invece può utilizzare questo fondo questo sfondo blu particolarmente ricco di pigmento e particolarmente incredibile soprattutto dopo il restauro degli anni 90 in cui c'è proprio questa specie di differenza anche di intensità dall'alto verso il basso del giudizio anzi se possiamo forse vederlo un attimo per darci un'idea vedete come questo blu che va rarifacendosi verso il basso quindi molto più intenso in alto e che sembra quasi un'alba dei tempi insomma di un sorgere di una luce che si va sempre più intensificando verso l'alto quindi tornando ai nostri dettagli questo appunto l'annuncio delle fine dei tempi e qua vedete il personaggio che strabuzza gli occhi nello sforzo del dare fiato alle trombe e a sinistra la resurrezione dei corpi le anime si risvegliano dal torpore come avevamo visto anche nella cappella di San Brizio e ritornano alla coscienza quindi vedete i vari stadi ce ne sono che sono ancora scheletri altri che stanno proprio uscendo dalla terra altri ancora che si cercano di liberare dal lenzuolo che li avvolgeva come qualità di cadaveri sono corpi pesanti anche questo che cerca appunto di uscire dalla terra e cercano appunto di sollevarsi per montare verso il cielo qua vedete diversi stadi lo scheletro l'anima questi personaggi ancora molto pesanti quasi come il corpo di Adamo che sta per attendere la scintilla vi la ricordate nella volta nella creazione di Adamo alcuni risorti cercano di salire al cielo da soli altri vengono aiutati da altri beati e si notano appunto ancora delle specie di battaglia tra il bene e il male qui vedete un beato che ha il diritto e appunto sta cercando di salire verso il cielo che viene ancora riacchiappato da una specie di creatura demoniaca che gli ha arrotolato un serpente intorno alle caviglie e che un altro beato o un angelo sta aiutando invece a salire e qua ne vedete invece un altro in cui un angelo o due angeli o un angelo che aiuta un beato che ne sta trasportando un altro sulle spalle tenendolo per appunto le ginocchia e qui c'è appunto una battaglia in corso tra il bene che cerca appunto gli all'angelo e il beato che cercano di trasportarlo verso l'alto e questo diavolo che invece cerca di afferrarlo per i capelli ecco qua vi avevo messo qualche dettaglio e appunto questo è il moto il moto circolare dal basso verso l'alto e qua vedete la salita degli eletti alcuni sono spinti come vi dicevo dalla propria forza vedete questi cercano appunto di sforzarsi di salire anche perché hanno delle anatomie particolarmente robuste altre sono aiutati da altri beati che appunto questi sollevano persino con una specie di catena che sembra quasi un rosario probabilmente un'allusione anche a forza della preghiera che era soprattutto della della validità del rosario che era un soggetto molto dibattuto con i protestanti e cercano appunto di salire verso le sfere superiori vedete questo come lo afferra ai polsi o ancora questo che cerca di sforzarsi quasi come fosse una specie di anima che viene alla vita dall'altra parte invece abbiamo la discesa dei dannati che sono respinti verso l'inferno dagli angeli e trascinati in basso dai demoni allora gli angeli come vedete qua non si fanno molti problemi prendono direttamente a cazzotti i peccatori per sbatterli verso il basso aiutati in questo caso una specie di appunto di associazione in questo caso di alleanza terribile tra gli angeli appunto che cercano di spingerli verso il basso e i demoni che invece che giustamente invece li aiutano a trascinarli ma prendendoli dal basso e qui vedete come i demoni si 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 attaccano si prendono hanno proprio presa nel peccatore negli oggetti che più caratterizzano i loro peccati qua ne vedete uno che tira il peccatore verso il basso cercando di prenderlo anche dalla borsa dei denari e dalle chiavi quindi è chiaramente qualcuno che ha peccato per per amore verso il denaro e il possesso e qua in maniera ancora più diciamo indelicata il demone prende questo personaggio per i genitali e che quindi lo caratterizza come per essere un lussurioso chiaramente la descrizione della discesa dei dannati all'inferno dipende moltissimo dalle descrizioni dantesche che Michelangelo non solo conosceva bene ma amava moltissimo e qua tra l'altro forse vi avviso questo dettaglio che è uno dei dettagli forse più conosciuti dell'intero giudizio Michelangelesco che è questo specie di dannato disperato che sta pensando cosa mai ho fatto per appunto come sono potuto arrivare all'inferno una specie di ritratto della disperazione che qui vedete come è appunto trascinato in basso da due demoni ma soprattutto morso da una specie di serpentone verde che lo afferra per le sue fauci per la coscia e cadiamo direttamente appunto nel livello più basso che è l'inferno dove troviamo Caronte che spinge i dannati a forza di palettate di colpi di remo di fronte al giudice Minosse che anche qua diciamo che i regolamenti di conti proseguono non è altro che il ritratto di Biagio da Cesena maestro delle cerimonie pontifice allora questo appunto volevo vedere il carontone diabolico ha un dettaglio dei diavoli che stanno trascinando le anime fuori dalla barca di Caronte e poi Biagio da Cesena raffigurato come Minosse con questo serpentone che tra l'altro gli morde anche in questo caso i genitali e le orecchie d'asino che aveva definito le figure di Michelangelo che si disonestamente mostrano le loro vergogne adatte più a stufe quindi ai bagni termali che erano anche un luogo estremamente promiscuo e da osterie piuttosto che la cappella pontificia Biagio da Cesena umiliato di vedere il suo ritratto in forma di impersonificato come Minosse tal fatta se ne lamentò col Papa che replicò di non avere alcuna autorità sull'infermo e chiuse il problema allora volevo tornare un attimo allora facciamo così che forse facciamo prima ecco questo volevo farvi vedere ancora una volta l'insieme della composizione forse è un po' meglio il giudizio ebbe un successo diciamo immediato un successo di pubblico nel senso un successo pubblico nel senso positivo di grande ammirazione ancora prima che fosse completato una sconfinata ammirazione per questo Michelangelo tardo estremamente violento estremamente passionale ma anche aspre critiche scandali e addirittura invettive sia sul piano morale sia sul piano formale sul piano formale si diceva che insomma Michelangelo era una sottospecie di aveva creato una specie di sottoinsieme una specie di catalogo di posizioni anatomiche estremamente complicate di corpi estremamente robusti una specie di grappoli umani di anatomia senza veramente avere un equilibrio formale il punto di vista più interessante veniva invece dal nostro punto di vista veniva evidentemente dalle invettive sul piano morale come vi dicevo questo è un affresco che rappresenta la trasposizione dei dubbi delle angosce dei tormenti personali dell'artista ma a un livello veramente quasi generazionale sono sicuramente angosce e tormenti che derivano dal che sono quelle di un uomo che era in relazione con ambienti in cui circolavano dottrine riformate che mettevano appunto come vi dicevo all'inizio in discussione la centralità della chiesa nella situazione in cui era all'epoca che domandava una riforma molto profonda della chiesa cattolica al suo interno come veramente come sforze come reazione alla riforma protestante e soprattutto Michelangelo era molto amico e veramente intimo di personaggi come Vittoria Colonna o come Reginald Paul che erano dei personaggi particolarmente importanti per quella che era la proposta di una riconciliazione tra i cristiani quindi la necessità di una profonda riforma cattolica per evitare appunto lo scisma tra cattolici e protestanti come vi dicevo dal punto di vista morale ci furono molti e soprattutto appunto i cattolici più intransigenti che accusavano Michelangelo di eresia soprattutto per la raffigurazione del Cristo le nudità e queste rappresentazioni particolarmente violente e arrivavano persino a richiederne la distruzione durante i pontificati di Paolo III e di Giulio III quindi i successori di di Papa appunto Paolo III e Giulio III il successore di Papa Farnese le critiche non ebbero particolarmente effetto le cose cambiarono con un Papa estremamente intransigente come Paolo IV Carafa o Carafa e con il Papa successivo Pio IV durante soprattutto da Paolo IV che richiese a Michelangelo di censurare lui stesso il giudizio cosa che Michelangelo si rifiutò di fare e Michelangelo corse veramente il rischio di ritrovarsi di fronte al Sant'Uffizio voglio ritornare al nostro PowerPoint per mostrarvi questa copia del giudizio universale che è data al 1549 fatta da Marcello Venusti per Alessandro Farnese quindi per il cardinale nipote di Papa Paolo III 1549 quindi registra come vedete la situazione del giudizio universale prima di quello che avvenne nel 1564 quindi come vedete i personaggi la maggior parte dei personaggi è ancora completamente nuda vedete qui i vari i vari santi intorno al Cristo situazione che è registrata anche da Giorgio Ghisi un incisore che dovette disegnare e comunque impostare la sua incisione sempre prima del 64 anche se questa è una tiratura del 1568 la base deve essere stata appunto il giudizio universale prima appunto di quello che avvenne il 21 gennaio 1564 ovvero la congregazione del concilio di Trento decise di far coprire le oscenità far coprire le nudità dei santi e dei personaggi del giudizio ne viene incaricato Daniele da Volterra che è l'autore del ritratto di Michelangelo che vi avevo mostrato per far vedere come la pelle del San Bartolomeo rappresentasse un ritratto di Michelangelo che era un amico e anche un grande ammiratore di Michelangelo che per appunto questa attività di censuratore di Michelangelo acquisì il soprannome di Braghettoni e Michelangelo fu appunto censurato da Daniele da Volterra con la tecnica della tempera secco cioè Daniele da Volterra ricoprì le pudenda diciamo dei personaggi con uno strato di tempera a secco nel 1565 qua vi mostro i braghettoni vedete queste macchiette macchiette rosse che sono le censure appunto a tempera di Daniele da Volterra e come vi dicevo invece dovete intervenire in maniera più violenta scalpellando la fresco della San Biagio e della Santa Caterina e modificando proprio la posizione del San Biagio e rivestendo completamente la Santa Caterina e quindi questo fu un intervento più violento ci furono poi interventi posteriori a quelli di Daniele da Volterra nel 700 e nell'800 che qua sono marcati in azzurro che sono state appunto le parti che sono state invece rimosse nel successivo restauro sì perché nel 1991 94 si è proceduto a un restauro estremamente delicato ed estremamente preciso del giudizio universale e sono state asportate le braghe sette ottocentesche quindi queste qui definite in azzurrino e sono state mantenute invece quelle cinquecentesche come memoria storica qui vedete la situazione pre e post restauro quindi vedete che era diventato una specie di agglomerazione di sporcizia di polvere di cose grigiastre che si erano appiccicate ai colori allora qua volevo farvi vedere proprio l'idea della giornata perché la vedete bene vedete come la differenza che chiaramente è stata molto alleggerita dopo il restauro ma qua la vedete ancora bene vedete come c'è una specie di riga che contorna una parte della fresco queste appunto sono le segmentazioni delle giornate qui la vedete anche qua intorno al Cristo le figure diciamo più complesse necessitano più tempo quindi molto spesso potete vedere attorno a queste figure proprio la delimitazione della giornata del pigmento fresco che poi seccando si è preso forse una sfumatura molto spesso un po' diversa dal pezzo accanto quindi appunto vedete prima e dopo il restauro e qua vi volevo far vedere proprio per terminare per salutarci alcune immagini abbastanza simpatiche questa è la situazione del giudizio universale veramente come viene occupato oggi dalla vita ecclesiastica quindi vedete il Papa con i vari cardenali che sono riuniti nella Cappella Sistina e qua invece vedete un po' la fortuna cinematografica della Cappella del giudizio universale in alcuni film qua vedete Abemus Papam del 2012 di Nanni Moretti dove è stato appunto ricostruito il giudizio universale nel momento dell'elezione del Papa quindi con i cardinali elettori che stanno spogliando le varie schede con dietro appunto il giudizio universale di Michelangelo e qua ancora forse più divertente significativo la ricostruzione non so se a Cinecittà forse sì della porzione necessaria alle riprese nel The Young Pope di Sorrentino del 2016 quindi vedete che la parte della cappella che era necessaria al ciac diciamo alla ripresa della scena è stata ricostruita e qua chiaramente è stata ricostruita solamente la parte inferiore dell'affresco per terminare vi mostro quello che invece è presente a Roma mi pare a non so a un teatro romano è stato organizzato un grande show di proiezione musica tra l'altro il tema musicale è Disting con appunto delle proiezioni e delle letture e quindi il giudizio universale è diventato uno show di diciamo non so come dire di profondo relazione con l'opera d'arte dove si hanno appunto una collaborazione di più stimoli sensoriali quindi vista udito musica eccetera proprio ha come tema il giudizio michelangelesco che continua diciamo a occupare le nostre la nostra relazione con con questo diciamo riflessione su sulla fine dei tempi vi ringrazio l'attenzione perché è stata molto lunga ma spero che vi siate appassionati e che insomma possiate conoscere meglio questo capolavoro l'attenzione di